Solitamente è campi a partire forte e non lasciare scampo agli avversari, ma questa volta la Globo Info Service subisce troppo in avvio e non riesce a risalire la china. A Sansevero la squadra di Piero Millina incappa nella seconda serata storta stagionale e non a caso incassa il secondo stop in campionato. Il match si presentava già difficile per la forza dei pugliesi e l'assenza del Farnese Serroni, ma è diventato subito insostenibile a causa di un approccio diametralmente opposto dei due quintetti. Il 26 a 12 del primo quarto e il 25 a 10 del secondo quarto hanno configurato un meno 29, 51 a 22, più che eloquente. Partita senza storie con i Farnesi che sono stati dominati al rimbalzo 39 a 25 e che hanno tirato molto male da oltre l'arco, 3 su 21. Dati statistici che però risultano quasi insignificanti alla luce della differenza di intensità messa in campo. Solo nell'ultimo quarto, a gara abbondantemente chiusa, la Globo Info Service è risalita al meno 21, 82 a 61, che è anche il risultato finale. E alcuni giocatori hanno messo parzialmente a posto gli score personali, coi 15 di Gatti, ma 1 su 7 da 3, e i 13 punti di Bottioni con 6 assist e Serafini. Per Sansevero in doppia cifra Morgillo, 18 e 8 rimbalzi, Ciribeni 15 e Torresi 14, bene anche Di Marco con 9 punti e ben 15 assist. La Globo Info Service, agguantata da Sansevero e Biscegli al secondo posto, ha però l'opportunità di rifarsi. Domenica al Pala Borgognoni arriva la capolista poderosa Montegrenaro, poi ci sarà il recupero del 22 dicembre con Senigallia. Con una doppia vittoria, sfruttando il fattore campo, i Farnesi centrerebbero il primo posto, ma soprattutto costruirebbero una piccola ipoteca per la qualificazione alle finals di Coppa Italia. Ma sarà importante rialzarsi subito e cancellare quest'ultima prova.